Parliamo appunto di cultura, a proposito di lettere sbagliate o di lettere giuste. Parliamo di cultura per raccontare questa famosa frase che hanno poi attribuito a Tremonti, cioè che con la cultura non si mangia, lui naturalmente da quel giorno ha passato tutto il tempo a smentire di averla mai detta, non è vero, l'ha detta, abbiamo le registrazioni per cui, ma soprattutto è una frase che parte da un periodo molto più oscuro, cioè dal nazismo. Quando Goebbels dice quando sento la parola cultura metto la mano alla pistola, riprendendo a sua volta una frase di un altro, però, insomma, è questo per capire, ora non è che siamo tornati naturalmente a quel tipo di tragedia, però dobbiamo sempre stare in guardia, perché la cultura stranamente, in un paese come questo, a maggior ragione, è sempre la cosa che viene tagliata prima, viene tagliata, come dice, beh, dobbiamo tagliare qualche cosa, beh, cominciamo da lì, in genere dalle pensioni, dalla cultura, sono delle cose che poi invece, in realtà, per la qualità della vita delle persone sono fondamentali, tante che, spesso e volentieri, quando c'è un'offerta culturale importante, anche cara, la gente fa carte false per andarsi a vedere una certa mostra in un'altra città, e viaggiare in Italia non è una cosa da poverissimi, e, non so, c'è una bella mostra a Torino, la gente fa follia per andare, e, magari, rinuncia a cose, invece, di tutti i giorni, e taglia altre spese. Per cui, in realtà, non è vera questa cosa, è una cosa molto vissuta dal punto di vista del pubblico, del settore pubblico, ma non è vissuta dal punto di vista della famiglia singola, in cui ancora la cultura rimane, in molti casi, una cosa fondamentale. Per questo abbiamo, oggi, ecco, l'è arrivato, la mia sinistra, lo mettiamo qua, la mia sinistra alla vostra destra, Carmelo Malacrino, che è il padrone di casa di due degli uomini più affascinanti d'Italia, che sono i bronzi di Riace, direttore del Museo Reggio Calabria. Salutiamo con un applauso, malgrado la corsa. L'unico calabrese presente a questo, noi tre siamo siciliani, naturalmente, come tutti quelli che abitano più vicino, è arrivato per ultimo, anche qua è un grande classico. Allora, per far questo, volevo cominciare a parlare con loro delle strutture che loro gestiscono, e per cui partirò, alla mia destra, da Giuseppe Rello, che dirige il parco archeologico di Agrigento, i templi più famosi del mondo. E siccome negli ultimi anni avete fatto una serie di rivoluzioni all'interno di quella struttura, per raccontarla al meglio, io vorrei capire da te, va bene, che hai una bigliettazione enorme, perché voglio dire, io adesso non mi ricordo quanti biglietti fate l'anno, ma io mi ricordo l'ultimo conto che vedi intorno ai 700 mila e passa l'anno, ecco, credo che siete cresciuti. Allora, come siete riusciti adesso a innestare una marcia in più? Allora, intanto buonasera, grazie per l'invito, grazie al direttore, Gaetano Savatteri, nostro conterraneo, diciamo. Allora, che cosa è successo? Che intanto il parco della Valle dei Templi è il primo luogo della cultura che gode di autonomia gestionale e finanziaria. è, diciamo, un'anticipazione che capita rare volte, diciamo, che la regione siciliana, in forza del proprio statuto, ha fatto rispetto a quello che adesso, diciamo, con la riforma Franceschini, è un modello che in qualche modo si è esteso al resto d'Italia. Questo ha significato una cosa, cioè intanto che il parco non vive di rimesse pubbliche, vive attraverso lo sbigliettamento e naturalmente questo responsabilizza la direzione, diciamo, l'organo di amministrazione e di gestione che ha, naturalmente, la preoccupazione di, inizialmente, di sopravvivere, adesso di crescere, sia da un punto di vista dei numeri, dei visitatori, sia anche a livello, diciamo, di reputazione. E come è avvenuto? È avvenuto, diciamo, attraverso... Intanto, scusate, dimmi una città, io ho detto 700 mila, tu mi dici siete un po' cresciuti, quanti biglietti state? Allora, sì, 700 mila nel 2016, l'anno scorso 870 mila, con una crescita quasi del 25%, siamo stati il sito a livello nazionale che è cresciuto di più, un tantino di più della regia di Caserta che ha avuto pure un grande esploit. E quest'anno contiamo di arrivare al milione, penso che ce la possiamo fare, perché il trend è anche buono, quest'anno siamo, a oggi, al 18,50% in più di crescita, quindi se lo manteniamo, arriveremo alla gognata meta. Per cui, di cultura si può mangiare. Si può mangiare, ma ovviamente... Cominciamo all'antipasto, il primo, almeno... Ovviamente un altro dato importante è, come dire, gli incassi, oltre al numero di visitatori. Siamo passati da 3,3 milioni nel 2012, quando sono arrivato io alla direzione, ai 6 milioni e passa dell'anno scorso. A questo si sommano anche iniziative di concessione degli spazi. Abbiamo avuto la fortuna, diciamo così, di ospitare, per esempio, per tre anni di seguito, il Google Camp, quindi i vertici... Polemiche infinite. Polemiche, vabbè, ma dopo alla fine, come dire, abbiamo cercato di mantenere... Perché tanto, se lo fai, tipo, polemizzano perché diciamo... Sì, se non lo fai... Eh, quei soliti provinciali. Tra l'altro abbiamo adeguato immediatamente il nostro regolamento tariffario, quindi fondamentalmente per tre ore hanno pagato 100 mila euro. Che voglio dire, insomma. Che non è male. Perché si sono alzati gratis. E questo ho fatto anche, come dire, da Volano, anche per altre iniziative. Abbiamo avuto anche un'iniziativa di Amazon che ha presentato un nuovo prodotto. Sobejon Sese, non si sa neanche quanto ha pagato per fare il video a Louvre, con il marito. Vediamo pure, se non c'essero anche nel Tempio della Concordia. Voglio dire, compatibilmente... Vediamo che succede. Non impedendo naturalmente la visita normale, facendolo oltre all'orario di lavoro, con tutti i crismi necessari. Dicevo di Amazon, dicevo anche che dalla Valle dei Tempi è partito anche il campionato di golf più importante al mondo, che si tiene addirittura nel 2022 in Italia. sono partiti l'anno scorso con la promozione della Ryder Cup e tante altre iniziative di questo tipo. Ok. Allora, facciamo intanto un primo giro. Il nostro secondo ospite, Carmelo Malacrino, direttore del Museo Archeologico di Reggio Calabria e padrone di casa dei bronzi di Riace. Questo va sempre ricordato. Allora, voi invece, da quando lei è stato nominato con questa ondata di direttori nuovi messi a Franceschini, cosa è successo? Come avete cambiato, diciamo, quello che avete trovato? Come state cercando di cambiarlo? Intanto buonasera a tutti. Chiedo scusa per il leggero ritardo, ma avendo chiuso le strade è stato veramente difficile arrivare qui. Come è cambiato? Intanto a prendere il museo. Vorrei ricordare che al mio insediamento, che è stato il primo ottobre 2015, il museo era ancora chiuso, era chiuso dal 2009, in una situazione un po' di stallo dal punto di vista dell'allestimento. Il primo impegno, ovviamente, è stato quello di riaprire il museo. Lo abbiamo fatto completando l'allestimento, completando tutti gli apparati didattici e, da non dimenticare, restaurando o comunque intervenendo su tutti i reperti. Perché negli anni precedenti si erano fatti tanti lavori, però questo aspetto di intervenire sulle collezioni, sia dal punto di vista conservativo che poi anche della leggibilità da parte del grande pubblico, era passato un po' in secondo piano. Quindi la prima cosa è stata riaprire il museo, lo abbiamo fatto, è stata una festa per la Calabria, credo, il 30 aprile 2016. E da allora gli ingressi sono ovviamente aumentati, nel 2016 abbiamo raggiunto, abbiamo superato i 210.000 visitatori e il 2017 ha visto oltre 2.215.000. Quindi siamo comunque in un trend positivo in una regione che purtroppo ha visto il 2017 come un anno negativo, come ingressi nei musei statali. E quindi su questo dobbiamo assolutamente lavorare per cercare di comprendere quelle che sono le criticità che riguardano il sistema museale statale in Calabria. Cos'altro abbiamo fatto? Il passaggio successivo è stato riconquistare il legame con il territorio perché il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria lo dobbiamo sempre ricordare non è il museo di Reggio Calabria ma è il museo della Calabria, il museo nel quale un visitatore calabrese, italiano o straniero percorre la storia dell'intera Calabria non soltanto la storia della città dello stretto quindi si parte noi abbiamo un allestimento permanente su quattro livelli si parte dalla preistoria si attraversa la fase greca e si giunge al tardolenismo e poi la fase romana con Reggio Calabria però veramente si conosce tutto il territorio abbiamo l'Alto Tireno Cosentino l'Alto Ionio Cosentino la zona dell'Istmo tutta la provincia di Crotone abbiamo la provincia di Reggio Calabria quindi è il museo della regione il legame con il territorio è stato si è maturato con una serie di eventi una serie di eventi che hanno coinvolto alcuni dei soggetti della cultura del territorio cito alcune convenzioni che abbiamo stipulato con il conservatorio Francesco Cilea quindi la musica è entrata all'interno del museo con il parco nazionale della Spromonte quindi il paesaggio così come ad Agrigento è entrato nel museo il planetario Pitagoras di Reggio Calabria quindi la possibilità di conoscere anche altri aspetti della cultura e in questo devo dire che la comunità ha risposto benissimo e poi ci siamo rivolti all'altra sponda dello stretto quindi la vicina Sicilia la Sicilia orientale e abbiamo da poco chiuso una mostra appunto su Reggio e Messina due città controllo dello stretto proprio per far comprendere che lo stretto non divide ma unisce lo ha sempre fatto nella storia prima di concludere un altro aspetto che abbiamo aperto la biblioteca la biblioteca perché il museo deve essere non solo luogo di esposizione ma deve essere luogo di ricerca perché poi ritorneremo sul discorso con la cultura non si mangia immagino perché è un argomento assolutamente interessante da affrontare e stiamo intervenendo in maniera molto attenta sul riordino dei depositi quindi delle collezioni in deposito e abbiamo qui la dottoressa Daniela Costanzo che è una dei giovani funzionari archeologi del museo archeologico nazionale di Reggio Calabria e lei sta svolgendo insieme ad altri collaboratori uno straordinario lavoro proprio per conoscere innanzitutto quello che dobbiamo valorizzare bene andiamo cominciamo questo primo giro adesso passiamo a un altro aspetto allora il privato per questo abbiamo Andrea Bartoli che ha organizzato una cosa in un posto stranissimo dove non si erano visti turisti mai si chiama Favara parola che viene dall'arabo che vuol dire Favara vuol dire sorgente e in un posto voglio dire veramente non dimenticavo addio dagli uomini non esageriamo però certamente dai turisti si e dal turismo si perché non era nelle rotte non era poi non è che le strade siciliane i trasporti siciliani brillino voglio dire né all'ora né ora però ho organizzato un'esperienza importante un'esperienza che è partita ovviamente come tutte le esperienze fatte dai privati una cosa piccola però piano piano è cresciuta all'interno appunto del quartiere antico della Casba di Favara che non a caso si chiama Casba però guardando soprattutto all'arte contemporanea cioè recuperando dei luoghi antichi per ospitare dell'arte contemporanea io adesso mi farei raccontare da lui esattamente quando sono partiti che cosa sono trovati davanti e che cosa hanno fatto cioè partiamo in questo caso dal passato per poi arrivare ma io direi innanzitutto partiamo dal perché il perché mia moglie di Favara e a un certo punto quando mia figlia ha compiuto i primi tre anni noi in quel periodo facevamo avanti e indietro dalla Francia dovevamo decidere dove vivere dove costruire il nostro progetto familiare e a me sembrava sinceramente che Parigi fosse un po' più sexy di Favara però mia moglie non ne voleva sentire di dover rincorrerci io non avrei potuto fare il notario la mia professione in Francia e quindi avrei dovuto fare avanti e indietro abbiamo deciso allora di restare in Sicilia abbiamo deciso di non lamentarci di non piangerci addosso di non aspettare che nessuno ci cambiasse la vita ma di fare tutto quello che erano le nostre possibilità per migliorare il nostro centro storico per migliorare la nostra qualità della vita per consentire alle nostre bambine di vivere in un posto più stimolante e per trovare il nostro ruolo all'interno della comunità nella quale avevamo deciso di vivere quindi secondo me il primo punto importante da sottolineare è il tema della restituzione chi nella vita per ragioni di nascita o di professione ha avuto qualcosa di più è arrivato il tempo di restituire di fare qualcosa per gli altri abbiamo deciso di condividere tutto quello che avevamo il nostro tempo il denaro le risorse i network le conoscenze le amicizie e abbiamo iniziato a invitare delle persone a favare l'arte la cultura l'educazione abbiamo una scuola di architettura per bambini in realtà da noi diventano veramente uno strumento tutto quello che facciamo lo facciamo con grande passione e oggi anche mi permetto di dire con un pizzico di qualità l'anno scorso abbiamo ospitato una mostra importantissima di 14 architetti giapponesi tra i più importanti del mondo la settimana prossima inauguriamo alla presenza del console americano una mostra dedicata a Detroit che è una città paradigma del successo del fallimento e della rinascita ma tutto questo diventa veramente uno strumento per ridare a una città senza passato senza presente una nuova dimensione di futuro e una nuova identità quindi otto anni fa abbiamo raccontato un'utopia e oggi dopo otto anni siamo alle porte della seconda utopia perché la prima tutto sommato siamo riusciti a realizzarla la cosa più bella è che c'è un'intera città che ha reagito però raccontiamo questa cosa per esempio dei cortili cioè che cosa è materialmente non è un museo è un centro culturale indipendente all'interno del quale si possono visitare delle esibizioni ci sono delle installazioni c'è quello che in gergo viene chiamato public design l'arredo dello spazio pubblico ci sono attività di formazione ci sono momenti come questi con talk lecture abbiamo tantissime università che ci vengono a trovare collaboriamo da tanti anni con una collaborazione strettissima con il Politecnico di Milano abbiamo avuto Tokyo Marsiglia Tunisi Berlino insomma è un posto dove accadono delle cose le residenze per artisti suggerisce il direttore continuamente la farm è un luogo dove ospitiamo veramente tantissimi creativi ma ripeto la cosa più importante oggi dopo otto anni noi abbiamo capito che il lavoro è prezioso è importante ma non è sufficiente allora la nuova utopia è come come facciamo a immaginare il futuro di questa città noi siamo abituati a pensare che questo lavoro spetti al pubblico al sindaco alla giunta o alla regione ma quando questo non accade che facciamo continuiamo a lamentarci a scrivere i post su facebook ad aspettare che qualcuno ci cambi la vita oppure decidiamo di diventare noi attori che si prendono cura innanzitutto di sognare una città differente e in secondo luogo di progettarla e poi di costruire le strategie e allora ti racconto brevissimamente questa seconda utopia la seconda utopia si chiama Favara società per azioni buone stiamo immaginando che nei prossimi dieci anni ogni cittadino di Favara possa essere proprietario di un pezzo di parcheggio quanti sono i cittadini di Favara? oggi sono 30.000 e stiamo immaginando che nei prossimi sette anni diventino 35.000 e che possano aumentare i 5.000 in 5.000 nei prossimi dieci anni cioè per arrivare a 50.000 abitanti nel 2050 è molto ambizioso come progetto certo quando lo raccontavo 15 giorni fa in Cina a Macau invitato a una presentazione di farm mi sono sentito un po' ridicolo perché lì prendono una città in campagna non c'è nessuno e in 20 anni ci mettono 7 milioni di persone però dobbiamo immaginare uno sviluppo sostenibile rispetto anche a quelle che sono le risorse del nostro territorio che sono veramente povere e allora si è formato un nuovo governo in questo paese tutti quanti ci auguriamo che questo governo faccia delle cose straordinarie ma io chiedo a tutto il pubblico che è qui presente ma prima che questo governo possa impattare sulla Mezzia o su Catanzaro o su Favara noi siamo morti di nuovo signori cioè è così e allora o acquisiamo consapevolezza che anche laddove il pubblico non riesce ad arrivare il privato si attiva si organizza e fa tutto quello che è nelle sue possibilità per migliorare le condizioni di una città oppure saremo costretti a lamentarci ancora per tanto allora io volevo dirti rassicurare volevo rassicurarti eh buone si si adesso al secondo giro ce la facciamo spiegare precisamente comunque per risponderti volevo rassicurarti perché intanto io nel mio piccolo una cosa posso farla io martedì impatto sul nuovo ministro dei beni culturali che devo intervistare a Spoleto io glielo chiedo intanto è un incontro pubblico vediamo che ne viene fuori poi ti telefono vediamo che ha detto quando forse la domanda sarà quando quando impatterà su Favara esatto quando arriva a Favara magari non sai neanche dov'è però glielo spiego io glielo spiego io allora intanto io tornerei adesso da Giuseppe Varello e gli chiederei questo allora parlai prima di incontri importanti appunto Google cercare di fare allora quanto si può mischiare anche per per trovare voglio dire risorse quanto si può mischiare il pubblico con il privato perché poi torniamo sempre la cultura si mangia ma tutte queste strutture hanno dei costi anche ragguardevoli hanno anche una ricaduta occupazionale enorme voglio dire sul territorio è incredibile che in Italia la prima facoltà frequentata non sia una facoltà di beni culturali ma siano tutte altre insomma allora voglio dire quanto questo può può pensando a dei numeri proprio sì intanto stiamo costruendo diciamo anche un progetto di inclusione e di rapporto con il privato che ha avuto anche diciamo dei riconoscimenti per questo progetto abbiamo vinto l'anno scorso il premio nazionale del paesaggio e proprio ieri sono tornato alla Lettonia dove abbiamo ricevuto una menzione da parte del Consiglio d'Europa il progetto si chiama Agrigentium abbiamo giocato un po' sul nome romano della città che era Agrigentum mettendo diciamo in relazione i campi diciamo con la comunità quindi Agrigentium in che cosa consiste nella possibilità di dare in concessione parti a vocazione agricola della Valle dei Templi che ricordo ha un'estensione notevolissima il parco è ampio 1300 ettari di cui circa 400 sono il cosiddetto cuore del parco in cui naturalmente avviene la visita classica lo stiamo ampliando anche perché abbiamo avuto la possibilità di fare intensamente soprattutto anche con i fondi che derivano dallo sbigliettamento ma anche con finanziamenti europei due importanti scavi che hanno portato alla luce il tanto agognato teatro di Akragas e anche una terma all'interno diciamo del quartiere ellenistico romano che è una novità anche per Agrigento quindi ritornando al progetto di recupero del paesaggio ovviamente il tema è complicatissimo cioè come si restaura come si mantiene il paesaggio nella sua conformazione storicamente più leggibile più interessante che alla fine per quanto riguarda Agrigento è quella dell'assetto preindustriale e quindi attraverso una scommessa sfidando in qualche modo il pubblico a partecipare a questa azione attraverso un bando che era indirizzato verso tre target specifici uno il livello sociale quindi la possibilità di realizzare orti sociali quindi con le scuole per gli anziani per le cooperative un altro elemento riguardava il recupero di persone svantaggiate attraverso le pratiche agricole è un campo molto interessante diciamo che si sta sviluppando e l'altro invece era quello più esclusivamente produttivo quindi indirizzato più verso le aziende del territorio e sta funzionando nel senso che abbiamo già affidato 150 ettari relativamente diciamo al settore produttivo a delle aziende che coltivano e producono olio vino e adesso anche il miele si potrà avere l'olio della valle dei templi il miele della valle dei templi uno se lo porta via con un marchio riconoscibile l'abbiamo brevettato si chiama Diodoros in onore naturalmente di Diodorosiculo è già in produzione quindi se si vuole lo si può già comprare tra l'altro l'olio siamo riusciti a farlo vendere anche da Italy a Roma il vino l'abbiamo presentato al Vin Italy due anni fa ha avuto anche un riconoscimento la medaglia d'argento al concorso internazionale di Bruxelles il fine alla fine qual è che soggetti privati possono in una logica naturalmente di bene pubblico utilizzare quella risorsa per un vantaggio del pubblico perché a noi danno anche un onere di concessione e delle royalties in funzione dei prodotti che vendono per le aziende naturalmente è la possibilità di vendere un prodotto che è ad altissima qualità sul piano della produzione ma che racconti anche 2600 anni di storia certo e poi sia forte quel marchio lì quel brand lì ok allora al museo di Reggio Calabria non è che possiamo coltivare sul tetto voi invece stiamo provando voi che cosa fate no vabbè noi non abbiamo queste possibilità ovviamente tutto quanto viene commisurato su quelle che sono le condizioni della struttura il nostro è un museo con un suo perimetro limitato all'interno di una città che ha delle criticità dal punto di vista infrastrutturale però esattamente nella stessa direzione ci stiamo muovendo per quanto riguarda diciamo l'implementazione delle entrate tramite oneri di concessione degli spazi ovviamente noi non arriviamo a 100.000 euro perché ci sono anche dei limiti da noi magari si spenderebbe anche 100.000 euro per organizzare una cena nella sala dei bronzi di Riace ma questo io non lo autorizzo e quindi non si può assolutamente fare vedo la dottoressa Costanza che annuisce ma non non è una presa di posizione la mia e noi come primo obiettivo abbiamo la tutela la conservazione del patrimonio la responsabilità sulla conservazione del patrimonio e la trasmissione del patrimonio alle prossime generazioni quindi si può fare tutto però assicurare io vi voglio dare però una notizia l'altro ieri sera un pezzetto del parco di Villa Medici un emino arabo che si è sposato gli ha lasciato 75.000 euro per sposarsi in un pezzetto del giardino di Villa Medici a Roma e devo dire i francesi ma io non ho nessuna non sono contrario a ricevere 75.000 euro se qualcuno vuole sposarsi al museo archeologico nazionale di Reggio Calabria dico semplicemente non lo può fare all'interno della sala dei bronzi di Riace noi diamo in concessione Piazza Paolo Orsi che è diventato uno dei luoghi della cultura in città diamo in concessione la terrazza panoramica facciata sullo stretto con la quale appunto ormai abbiamo raggiunto buone cifre curiamo in maniera molto attenta gli oneri di concessione e dell'uso delle immagini perché quello è un altro degli aspetti da tenere in considerazione anche noi abbiamo una nostra linea siamo abbiamo una nostra linea editoriale quindi pubblichiamo come museo archeologico nazionale di Reggio Calabria tutti i cataloghi con un'ampia parte che rientra nelle nelle nostre casse e poi procediamo credo non siamo molti in Calabria come musei tramite l'art bonus a reperire altri supporti da parte dei privati per la conservazione del patrimonio in particolare per quello questo volevo chiederlo sia a lei che poi a Giuseppe ma voi quando vi trovate di fronte o se mai vi siete trovati di fronte ma credo proprio di sì a grandi sponsor privati va bene loro che cosa chiedono cioè che cosa vengano a cercare da voi oppure voi che cosa andate a proporre loro al di là della cena delle Miro lasciamo perdere quello allora al momento non abbiamo avuto grandi richieste di grandi finanziamenti però noi stiamo cercando di portare avanti un altro progetto un progetto più capillare un progetto che possa coinvolgere il territorio perché non è facile in una regione qual è la Calabria trovare un mecenatismo importante ma anche piccole piccoli granelli da parte di chi matura una sensibilità verso il patrimonio pubblico sono assolutamente importanti basta il portale Art Bonus è un portale pubblico un portale di evidenza pubblica quindi è aperto a tutti potete controllare tutti come stiamo cercando di procedere per reperire risorse per la conservazione dei progetti facciamo piccoli progetti e vediamo che le persone rispondono rispondono dalle università alle associazioni ai privati gli imprenditori ora ad esempio abbiamo Confagricoltura che sta manifestando una particolare sensibilità verso il patrimonio al museo e stiamo lanciando l'iniziativa Adotto il reperto quindi verranno delle ditte calabresi e ciascuna ditta diciamo avrà la propria visibilità all'interno del museo adottando un reperto e così come dire diamo una mano a loro e diamo una mano a tutti quanti noi grazie da noi al momento diciamo ci sono state richieste significative di sponsor qualcosina tipo la realizzazione di un sistema di raccolta dei rifiuti interrata che serviva diciamo alla ditta per pubblicizzare questo nuovo prodotto oppure la realizzazione del sito in cambio dando visibilità all'azienda che ce l'avrebbe fatto però diciamo non ci sono grandi occasioni voi andare voi da qualcuno è un tipo di cose che avete in programma di fare andare a New York anche andare nei posti dove questi colossi ci sono esistono nella Silicon Valley loro invece sono molto attenti a questo tipo di come tant'è che poi Google arriva e Google non è che nasce né in Calabria né in Sicilia insomma nasce lontano dunque questo è una cosa che voi pensate prima o poi di aggredire come tipo di mercato ovviamente ci abbiamo provato con Google con Amazon però loro non è nella loro dinamica aziendali quello della sponsorizzazione finora siamo stati sfortunati con noi Google pure non ci ha dato una grande risposta però io sposterei un po' l'attenzione su un'altra questione si sta parlando di reperimento di risorse economiche ma con questi soldi che cosa dobbiamo fare perché l'obiettivo non è soltanto avere soldi ma spenderli visto che ha citato Google Google ci ha proposto di offrire sulla loro piattaforma una visita virtuale del museo e la nostra risposta è stata ok però voi ci finanziate due collaborazioni per la produzione dei contenuti da inserire all'interno della piattaforma perché poi l'obiettivo è anche creare opportunità di lavoro in una regione qual è la Calabria dalla quale lei prima citava le facoltà di beni culturali citava le facoltà di archeologia una regione nella quale i tanti studenti che si laureano qui abbiamo alcune rappresentanze delle università poi devono trovare fuori lavoro invece noi proprio questi soldi questi 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 finanziamenti li dobbiamo sfruttare per creare opportunità l'art bonus che citavo prima l'art bonus per come lo stiamo facendo uno a noi ci porta il restauro del reperto restauro del reperto che quindi ci permette di farlo conoscere perché finora è rimasto conservato e prestarlo ma intanto innanzitutto conservarlo due il restauratore noi diamo lavoro dieci reperti restaurati magari si può creare l'opportunità di una borsa di studio per lo studio di quei reperti e quindi una terza persona che viene coinvolta se non costruiamo un sistema virtuoso di reinvestimento pubblico di queste risorse allora è semplicemente un'ansia di reperimento risorse allora io a questo punto tornerei Andrea Martoli allora prima parlavi delle società per azioni buone che cos'è questo punto abbiamo sentito tante sentiamo sì in realtà è è un dispositivo che stiamo immaginando evidentemente un'utopia ancora per poter reagire dal basso sostanzialmente non aspettare che qualcuno ci cambi la vita ma provare a farlo noi allora l'idea è semplice mettere insieme i proprietari dei fabbricati mettere insieme chi ha dei denari e mettere insieme chi ha delle competenze e immaginare di progettare in una logica che in inglese viene chiamata di impact investing quindi investimento che produce impatto sociale degli investimenti che possano produrre degli effetti sulla qualità della vita dei cittadini e dei nuovi cittadini perché non dimentichiamoci che una delle questioni di rimenti sul successo o il fallimento delle città è essere o meno attrattivi anche in modo stabile vi faccio un esempio sulla scia di quello che è successo a Favara sono nati decine centinaia di B&B e allora questi B&B due mesi l'anno lavorano tutti gli altri dieci mesi l'anno sono insomma un po' più sofferenti il nostro direttore della scuola di architettura per bambini fa fatica a trovare un alloggio a un affitto come dire normale che però sia curato in modo carino e allora il tema è che ci vuole una cabina di regia che indirizzi le scelte di un'intera comunità ora chi è che fa questo lavoro nessuno chi è che pensa il futuro chi è che pensa quello che vogliamo essere nei prossimi dieci anni a Reggio Calabria ad Agrigento o a Favara meno male che non è detto Roma no a Roma bisognerebbe poi iniziare a pensarlo per quartieri io credo che spesso purtroppo anche i nostri amministratori anche con tutta la buona volontà non abbiamo le competenze per fare questo e in realtà nelle nostre città c'è tutto vi faccio un esempio di un dato bestiale una cittadina come Niscemi mi ha sconvolto questo dato ha depositi bancari per 80 milioni di euro quindi immaginate quanti depositi bancari ci sono ad esempio alla Mezzia ora se ogni cittadino decidesse di investire le proprie risorse non in titoli di società delle quali non conosce nulla perché semplicemente va in banca e dice guarda investi in Eni piuttosto che in Telecom piuttosto che nel carbone o nel petrolio ma investi sulla tua città sembra un po' l'uovo di Colombo il tema è riflettere questa è una società che ha annullato un pochettino la capacità di costruzione di pensiero il secondo tema è mettersi insieme aggregarsi mettersi in discussione sognare e poi attivarsi quando noi raccontiamo di farm quando qualcuno viene ai sette cortili poi spesso ci dice che siamo coraggiosi ma siete stati coraggiosi a fare questo io rispondo che in realtà saremmo stati pazzi a non farlo cioè la nostra vita evidentemente si è molto complicata facendo questo lavoro perché siamo pieni di impegni siamo pieni di responsabilità corriamo dei rischi ogni tanto entriamo in conflitto con l'istituzione comune però in questo modo siamo riusciti veramente a cambiare la faccia di questa cittadina nei primi otto anni cioè quando qualcuno dice che nulla può cambiare non è vero è una menzogna siamo noi che ci arrendiamo con i nostri comportamenti o con le nostre omissioni con quello che non facciamo talvolta pecchiamo di non fare e allora veramente speriamo di riuscire a realizzare questa seconda utopia per consentire poi a tutte le altre città di poter mutuare questo modello e emanciparsi anche in un certo quel modo dalla funzione pubblica che non significa come dire non pretendere un migliore esercizio della funzione pubblica ma significa comunque essere dei cittadini molto più attivi molto più responsabili che sicuramente poi saranno anche più attenti nelle scelte di chi ci rappresenta politicamente attenti nel come dire punire o mandare a casa chi non amministra bene grazie mi viene in mente un altro esempio che è Taranto il museo archeologico di Taranto dove la tua collega esatto Eva degli Innocenti ha messo in piedi un meccanismo di restituzione di cultura alla città una città che è colpita da questo doppio dramma dell'Ilva cioè lavoro e però allo stesso tempo malattie ed è riuscita a far diventare questo museo archeologico una sorta di punto di aggregazione della città che a questo punto si specchia e parla dei propri problemi cercando di affrontarli di risolverli e questa è una cosa di cui per esempio noi a un certo punto ci siamo accorti e ce ne siamo occupati ed è abbiamo trovato una comunità stretta intorno a un museo archeologico che in Italia nessuno conosceva che tra l'altro è splendido straordinario se vi capita allora io su questo volevo riprendere ancora una volta scusate se ribusso sulla cultura si mangia non si mangia allora nel futuro in un futuro diciamo da qui a 5 anni e poi da 5 a 10 dunque non parliamo di un futuro chissà qual è il nostro futuro un futuro che noi vedremo quali sono le mosse le due mosse non parliamo di tre mosse dieci mosse che poi magari uno riesce a farle o ci sono le cose ma due mosse che un'istituzione come il museo che tu dirigi il parco che dirigi e i privati possono fare bella domanda allora intanto come avevo detto prima anche noi a Reggio stiamo vivendo questo fenomeno e questo risultato nel senso che tutta la comunità del territorio ha riconosciuto ormai nel museo la sua capacità attrattiva e anche di polo di diffusione della cultura e di luogo identitario della cultura e cosa fare a me piacerebbe passare da un'attività straordinaria ad un'attività ordinaria cioè che cosa significa noi spesso ci troviamo a dover correre dietro criticità che abbiamo ereditato e quindi riportare innanzitutto il museo ad una situazione ordinaria una situazione stabile dalla quale veramente si può immaginare un futuro più forte fare rete fare rete è quello che piano piano stiamo cercando di fare lo abbiamo fatto l'ho detto prima con la superintendenza di Messina lo stiamo facendo ora con il museo salì con il museo paolo orsi di siracusa spero che ci saranno occasioni di collaborazione di collaborazione con agrigento e poi siamo in stretta collaborazione sia con Eva degli Innocenti quindi con il museo archeologico nazionale di Taranto con Gabriel Zuck Trigel a Pestum e con Paolo Giulierini a Napoli quindi i quattro grandi musei della Magna Grecia lavorano insieme proprio per immaginare iniziative di valorizzazione di questo brand importante che è appunto la Magna Grecia come immaginare il museo fra dieci anni intanto immaginare un museo dinamico un museo dinamico anche nel suo percorso espositivo ormai il museo ha due anni e per me è già un museo vecchio nel senso che un'esposizione permanente non può essere permanente per sempre ma deve essere un'esposizione permanente dinamica perché deve continuamente offrire la possibilità di valorizzare altri reperti raccontare altri temi far conoscere e quindi attrarre altre sensibilità però tanti 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 sforzi restano sempre contenuti nei risultati laddove non ci sia un supporto dal punto di vista infrastrutturale noi siamo la punta della penisola spesso io ora parlo di Reggio Calabria spesso noi perdiamo un un flusso di visitatori che lascia la Calabria a Villa San Giovanni per andare in Sicilia dobbiamo lavorare su alcune strategie su alcune strategie che possano conquistare tramite la nostra qualità questi visitatori in modo tale che la bellissima Sicilia resti sempre una grande meta ma anche la Calabria non sia soltanto terra di passaggio invece a Grigento loro i reperti li possono ruotare spostare tutto compresi i bronzi ma tu i templi però non li puoi spostare e per cui che fai che ruotili che puoi spostare no vabbè intanto diciamo adesso avete scoperto il teatro e vabbè le terme le terme no vabbè come dire anche noi abbiamo il nostro patrimonio tra virgolette mobile stiamo lavorando a una mostra per Milano inaugureremo il 19 che racconterà un po' il rapporto lo faremo con il museo studio Francesco Messina il tema è la connessione tra l'arte moderna contemporanea e la valle dei templi e il patrimonio classico in questo caso naturalmente con la valle dei templi cioè quello del contemporaneo ora a parte diciamo i rapporti di frequente collaborazione con Andrea sono stati anche per noi diciamo una una sfida ma anche per perché diciamo l'aspetto paesaggistico del di Akragas aveva una sua dimensione anche nei confronti dell'interesse da parte degli artisti mi riferisco naturalmente ai paesaggisti del del set dell'ottocento dopodiché c'è stata una cesura noi stiamo cercando anche di recuperare questo rapporto ospitando artisti che non utilizzano gli spazi solo come cornice per le proprie opere ma che realizzano opere size specific quindi tra virgolette ispirandosi alla valle dei templi a vari livelli diciamo con un'attenzione per gli artisti locali ma anche per i grandi artisti giorno 6 di luglio ne augureremo una grande mostra di Jan Faber che si chiamerà oracoli e miti quindi ovviamente basato su un lavoro costruito dall'artista belga proprio sulla valle dei templi quello che pensiamo noi da qua dieci anni è che queste pratiche si consolidino intanto uno l'attenzione come diceva il direttore per la comunità abbiamo fatto un grande lavoro considerate che fino a dieci anni fa anche meno la valle dei templi era vista dagli agrigentini come un ostacolo allo sviluppo cioè dichiarandolo anche pubblicamente adesso l'attenzione è cambiata perché c'è stato un grande lavoro di coinvolgimento delle comunità delle associazioni a tutti i livelli financo nella ricerca noi gli scavi che facciamo li facciamo a cantiere aperto quindi chi vuole ovviamente nel rispetto delle norme di sicurezza può assistere e in qualche caso partecipare agli scavi una esperienza indimenticabile è che abbiamo consentito a una famiglia di visitatori olandesi di lavare i cocci cioè quella per loro sarà come dire l'esperienza che racconteranno ai propri posteri quindi le fila che stiamo tracciando sono anche relative a a innervare il parco che è un'entità territoriale estesissima enorme importante per per la città di Agrigento ma non solo all'interno diciamo di sistemi virtuosi che la attraversano la percorrono e che ne possano essere vivificati l'ultimo esempio è della settimana scorsa che è la costituzione di una strada del vino che naturalmente passa per la valle dei templi naturalmente utilizza il brand valle dei templi e che coinvolge il territorio del Nero d'Avola che va da Menfi fino a Campobello di Licata coinvolgendo diciamo aziende vinicole di una certa importanza il rapporto con la comunità che c'è particolarmente in questo caso la cultura non si mangia ma si beve si beve ma stiamo facendo pure stiamo producendo pure grano quindi faremo il pane pane e vino intanto volevo dire un'ultima cosa relativamente al rapporto con la comunità diciamo ora al di là di tante cose è bastata una piccola azione cioè quella di istituire un abbonamento annuale al costo politico di 20 euro l'anno per i singoli 30 euro per la famiglia comunque composta e di quante persone composta e questo ha significato che abbiamo tra virgolette venduto a oggi 600 abbonamenti quindi ci sono 600 persone prevalentemente della comunità che vengono al parco non solo per vedere per studiare per analizzare ma anche per passeggiare per prendere un caffè per portare gli amici diventa un luogo di tutti i giorni diventa un luogo che fa parte della tua vita la tua città e non una cosa isolata che magari ci vai una volta ogni 30 anni e magari per portare gli amici insomma allora io invece volevo venire e chiudiamo diciamo con il privato appunto due mosse da fare nei prossimi 10 anni diciamo la prima sulla quale stiamo già lavorando sulla quale vogliamo lavorare sempre di più è l'educazione se oggi in questa assemblea fosse composta alle persone più potenti del mondo e decisissimo di cambiare il mondo in meglio da stasera in poi non potremmo comunque farlo perché i problemi sono così tanti e sono così complessi che bisogna ripartire veramente dall'inizio che sono i bambini e quindi il tema dell'educazione secondo me è veramente centrale e noi lo stiamo affrontando con molto impegno con molta passione con questa squadra di architettura per bambini che in realtà è un primo dispositivo di un progetto più ampio che ci porterà a realizzare un children museum dove i bambini potranno fare la stessa esperienza che stanno facendo con l'architettura con la politica con l'economia con l'agricoltura urbana con tutta una serie di materie che solitamente i bambini non incontrano se non quando diventano adulti ma qui i privati possono andare da altri privati eventualmente a chiedere una sponsorizzazione a chiedere per fare questo ma anche noi come dire viviamo in parte grazie a collaborazioni donazioni in kind quindi aziende che ci forniscono dei prodotti e ce li regalano e quindi ci consentono di avere delle minori spese nelle nostre realizzazioni il secondo obiettivo è quello di un po' d'Italia tutti si lamentano che non c'è lavoro però nessuno è competente a fare nulla c'è un grandissimo tema dell'incompetenza della mancanza della conoscenza delle lingue della mancanza di formazione dei settori di amministrazione di ruoli manageriali e quindi bisogna anche totale mancanza di investimento in infrastrutture che voglio dire anche assolutamente sì però ecco provando a immaginare non dal nostro ambito piccolo ma in un ambito un po' più largo regionale vorremmo immaginare che un nostro presidente della regione possa sognare questa Sicilia in maniera un po' diversa un po' più collegata ma anche una Sicilia dove si possano fare degli investimenti prima tu parlavi di pubblico privato quando a gennaio quest'anno ho avuto la fortuna di essere ospite del dipartimento di stato americano mi hanno portato a Washington a Pittsburgh a Detroit a Washington il sindaco che ha 34 anni è donna ed è di colore ci raccontava che loro hanno due uffici uno a Beijing e uno a Shanghai per attrarre investitori cinesi a Washington che è una città perfetta Washington è una città stato una città che sulla carta non avrebbe bisogno di nulla quindi se gli americani come dire che hanno delle condizioni hanno anche un pragmatismo voglio dire allora forse noi ci immaginiamo in maniera così un po' romantica che arrivino in vacanza con lo Iotto questi mega miliardari decida di investire non funziona così la regione deve avere un piano deve avere delle zone di sviluppo deve garantire come dire dei tempi certi e una giustizia certa e una burocrazia inesistente deve dare degli incentivi e dopodiché deve andare a chiamare questo tu lo dicevi prima ma voi andrete degli americani è chiaro che farlo dal progetto dovrebbe essere una strategia politica regionale quanto meno però è quello si passa da lì altrimenti sarà veramente difficile attrarre capitali esteri in Sicilia in Calabria nel sud Italia io quello che ho visto negli anni è stato questo da parte su questo caso della Sicilia perché essendo regione autonoma si muove che ha uffici di rappresentanza in giro con delle bellissime campagne di comunicazione devo dire oggettivamente bellissime però fatte a Londra viste a Parigi viste in giro però poi alla fine non è un tema di comunicazione è un tema di strategia complessiva tu devi avere un ciclo di sviluppo devi sapere ma cosa deve essere sta Sicilia tra 20 o 30 anni il problema è avere visione avere visione avere un progetto avere delle strategie dopodiché mandare i migliori uomini a cercare chi queste cose ce le può realizzare e può avere interesse a realizzarle è chiaro tu devi avere i progetti voglio dire ma chiaro non è che voglio dire a un Bill Gates in una logica assolutamente pubblico privato purtroppo in Italia nel sud Italia il pubblico privato funziona solo nel malaffare se invece io devo parlare con il pubblico e costruire un progetto di investimento pubblico privato diventa pericoloso perché chissà cosa c'è sotto invece all'estero negli Stati Uniti Detroit è una città distrutta quando siamo andati in giro il responsabile dello sviluppo economico di Detroit ci diceva vedete questi tre edifici questi sono del comune di Detroit il comune di Detroit ha speso qui 6 milioni di dollari ma qui qui e qui i privati ne stanno spedendo 200 milioni di dollari in come dire un progetto costruito insieme il pubblico privato questa cosa da noi non è mai esistita sarà arrivato anche il momento di iniziare a copiare quelli che fanno le cose buone non solo ho poi detto fra di noi Detroit è una città orrenda forse è più facile vendere qualche città nostra dissento dissento tu sei stato di Detroit io sono stato pure è una città capisco capisco il tuo punto di vista noi stiamo parlando delle città italiane il confronto è Detroit è una città assurda giusto per dare due dati per farvi capire quanto è grande Boston San Francisco e Manhattan non fanno Detroit rimane uno spazio sufficiente per una città grande quanto Parigi immaginate quanto è grande e per nove decimi questa città è in totale abbandono cioè tu cammini per chilometri e ci sono case fabbriche strutture completamente abbandonate quindi credo veramente un unicum nel mondo è chiaro che non è un posto dove puoi andare per fare turismo quindi capisco il suo punto di vista dice una città orrenda in realtà è una città con grandissimi spazi non solo fisici ma anche mentali cioè loro stanno e per questo noi ci facciamo una mostra a Favara perché per noi diventa di grandissima ispirazione loro stanno immaginando che il futuro in questa città nel pieno centro della città ci siano enormi frutteti enormi spazi dedicati all'agricoltura diventerà una delle prime città agresti del mondo ed è interessante però l'idea appunto sono intanto stati capaci di ripensarla completamente a questo punto arriva il discorso del fundraising cioè di andare a trovare i soldi ma su un progetto che già esiste dicendo a chi li devi mettere tu metti questo per fare quest'altro ecco questo va bene allora se siamo stati così bravi da essere allora io concederei un paio di domande se le volete fare altrimenti se siamo stati così chiari la chiudiamo qua qualcuno vuole fare delle domande niente niente chiari cristallini siamo stati sono fiero di me va bene allora io ringrazio i nostri tre ospiti e ringrazio voi allora cominciate venite andate al museo di Reggio Calabria che è vicino poi andate un po' più lontano attraversate lo stretto e andate a Grigento e soprattutto a Favara andiamo a Favara è vicino alla Valle dei Tempri siamo vicini eh bene grazie arrivederci dammi la mano e torna vicino può nascere un fiore nel nostro giardino